A differenza del Presidente del Consiglio di Stato, Giampiero Cirillo, che aveva bocciato la proposta, Angelo Buscema condivide le parole di Carlo Cottarelli. Quest'ultimo, noto economista, storicamente ostile alla burocrazia, ha proposto di selezionare una ventina di abili imprenditori affinché siano loro a riformare la pubblica amministrazione. Il Dottor Cottarelli dice che bisognerebbe affrontare la riforma della burocrazia chiedendo agli imprenditori di scriverla e non a coloro che invece sono parte dell'apparato. È una provocazione o c'è del vero? È una prospettazione interessante. È bene sempre sentire tutte e due le angolazioni, quella degli operatori, ovvero i funzionari che operano nell'amministrazione e anche quella degli imprenditori che comunque si trovano costantemente a contatto con l'amministrazione. Io credo che sia soprattutto il dibattito possa essere comunque un elemento utile. Infatti collegato al tema dell'eccesso di regole c'è la mancanza di decisioni. A volte i sindaci scelgono di non fare per paura delle conseguenze. Questo blocca evidentemente un sistema, piccolo o grande che sia. Che cosa si sente di consigliare a questi amministratori locali? Io posso dire che per quanto riguarda le amministrazioni, le amministrazioni devono fare delle scelte, operare e anche affrontare un rapporto con la consapevolezza che la discussione si può sbagliare, ma bisogna agire, muoversi. In questo vuol dire il ruolo che può svolgere anche la Corte dei Conti, perché la Corte è un organismo che affianca le comunità, affianca gli operatori e il ruolo della Corte è quello non di fare le scelte, ma di dare e tranquillizzare le amministrazioni e illustrare il quadro normativo per incentivare tutta l'amministrazione ad operare. Grazie.